Allora ragazzi, un mini terzo tempo, una bella partita, comunque hai giocato benissimo, te l'aspettavi di giocare così, con questi giganti? Avete fatto una bella partita, questo Copper Livorno va anche senza la birra, vero? Hai fatto un esordio oggi, che ambiente hai trovato? Bello, ti trovi bene, tutta la squadra, Massimo, questi nuovi innessi sono veramente bravi. Siamo stati competitivi oggi, sono contentissimi dalla mia squadra, loro si conoscono, ormai sono forti. Sono il numero uno, l'hai sempre detto fin dall'inizio del campionato. Ci scopettevo, vincevo, io ho trovato un euro, un primo. Infatti, Ivan, questo Copper Livorno comunque è migliorato tantissimo. Non ci ho mai giocato contro messa contro di loro, questa qui è la prima. No, no, comunque hanno avuto anche nuovi innessi, Leonardo, gli innessi sono ottimi. Ma va tutto bene, per me va sempre tutto bene, ci si trova bene con i ragazzi, ci si trova bene con gli avversari. E questo è veramente molto bello. Maglio, questo Copper Livorno, diciamo, è migliorato tantissimo. Questo Copper Livorno è migliorato tantissimo. È la prima volta che io ci gioco contro, però è veramente una bella squadra, è stata una partita sudata. Però è veramente bella. E questo è molto bello. Bravi ragazzi e complimenti, bravi. Bravi ragazzi, bravi bimbi. Provo per rubar. Provo per rubar.